Il pioniere dei panzerotti a Londra si chiama Gianni Perillo e ogni giorno al Greenwich Market ne sforna a centinaia, con buona pace degli inglesi che quanto a gusto lasciano davvero a desiderare. Ma anche il popolo di sua maestà la regina ha imparato ad apprezzare il panzerotto, magari farcito con varianti più vicine al gusto britannico. A vincere la scommessa un laureato in economia e commercio di Altamura al secolo Gianni Perillo, di 41 anni, il quale dopo essersi buttato alle spalle un decennio in una società petrolifera ha deciso di fare altro. La capitale londinese è piena di pizzerie, con nomi che in qualche modo richiamano l'Italia, ma spesso sono solo specchietti per allodole, provare per credere. E allora cosa fare se non aprire il panzerotto blues in un affollatissimo mercato londinese? Il nome del locale è ispirato a Focaccia Blues, il film di Nico Cirasola che ha raccontato la battaglia vinta ad Altamura da sua maestra la focaccia. Il dottor Perillo è felice e appagato, ma anche orgoglioso perché, come scrive su un cartello, abbiamo una storia italiana da dirti. La materia prima dei panzerotti è italiana, altrettanto dicasi per l'olio, rigorosamente pugliese. Il panzerotto dunque ha conquistato i londinesi, ma ha dato un'occasione a Gianni Perillo che ha sempre detestato il lavoro dipendente. E allora, preparata la valigia, è andato in missione esplorativa nel Regno Unito. Ha imparato a impastare la massa ed è partito con la postazione al Greenwich Market. La famiglia, composta da moglie e figlio, lo hanno raggiunto e adesso Panzerotto Blues è una realtà tutta pugliese, all'ombra del Big Ben.